Il Piemonte è ripartito dal punto di vista turistico, una voce importantissima dell'economia di questa regione. È stato un successo davvero straordinario quello ottenuto dal voucher vacanze. A confermarlo è la regione Piemonte che comunica il numero dei voucher già venduti, sono almeno 40.000. In effetti pagare solo una notte ed averne due omaggio, una pagata dalla regione Piemonte e l'altra dall'albergatore è un'offerta molto allettante. Il presidente della regione Alberto Cirio e l'assessore al turismo Vittoria Poggio hanno così deciso di rifinanziare la proposta con un altro milione e mezzo di euro, soldi che vanno ad aggiungersi ai primi 5 milioni di euro che costituivano lo stanziamento iniziale. La vendita dei voucher al vacanza viene anche prorogata fino al 31 dicembre di quest'anno, ma saranno spendibili fino al 30 giugno dell'anno prossimo. Il successo più grande è stato registrato da Monferrato, Cuneese e Lago Maggiore. Il bonus pacchetto 3 notti al prezzo di una nel Cuneese ha fatto segnare un vero e proprio tutto esaurito. Il Monferrato invece ha segnato un proprio record di richieste e al terzo posto fino a questo momento si conferma il Lago Maggiore, ma sono ancora in avvicinamento e disponibili anche se agli sgoccioli i voucher del Biellese, di Bardonecchia, Valle Maira, Canavese e Valle di Lanzo. 8 consorsi turistici su 14 hanno già esaurito la disponibilità. Mediamente il pacchetto comprende due persone che corrisponde a 80.000 arrivi per un totale di 240.000 pernottamenti. I numeri, affermano il governatore Alberto Cirio e l'assessore al turismo Vittoria Poggio, confermano che pubblico e privato possono lavorare insieme dando vita a un esempio virtuoso che piace ai viaggiatori e agli albergatori e rimette in moto un settore tra quelli più sofferenti dopo le chiusure della pandemia. Questa misura è diventata un modello. Altre regioni stanno infatti prendendo spunto da quello che è stato fatto dalla regione Piemonte per dare vigore ai flussi turistici. L'operazione voucher vacanza, sottolinea anche il presidente della federazione dei consorsi turistici del Piemonte, Andrea Cerrato, è stata un'iniezione di fiducia e un aiuto concreto per il sistema turistico del Piemonte.